Allora, siamo qui in compagnia di mio padre a prendere i pesci spada siamo andati a prendere il pesce siamo andati a prendere i pesci fresco e niente, siamo andati a prendere i pesci non lo so cosa a ieri ne prendiamo le cichiella ma anche stanguazzano, nera no, no, tu, tu a ieri ne prendiamo le cichiella vorremmo oggi quando ne prendiamo eh, allora beviremo poi no, ma sono enormi ma aspetta l'acqua no, 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 no ho visto che si può aggiustare comunque i megapixel della fotocamera e io non lo sapevo perché erano messi bassi, molto bassi comunque sappiate che mio padre ha preso più di 7-8 litri di pesce comunque sono pesci davvero enormi poi alla fine di questo vlog farò la foto che i pesci e niente bella manderò e la farò vedere e niente noi ci rivediamo quando arriviamo a casa abbiamo preso massimo quanti pesci 4 kg 4 kg di pesce comunque erano abbiamo fatto una bella pesca di 4 kg di pesce belle e grosse sono già pulite disinfettate pronte per essere mangiate ora non lo so penso che stasera mangeremo il pesce poi vedremo questo è il mio secondo vlog mettete un mi piace i commenti noi ci vediamo presto sto facendo il video non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace no ma sono enorme aspetta no 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 non mi piace ciao ciao ciao